Questo è il primo fontanello collocato nel quartiere Ultrarno, abbiamo scelto questo quartiere perché è la zona in cui funziona di più l'erogazione di acqua attraverso questa modalità, ne sarà collocato un secondo nel 2024 nel quartiere Bani. È stato inaugurato il primo fontanello di San Giovanni Valdarno, installato in via Legiotto e realizzato da Publiacqua. L'unico attualmente funzionante perché quelli precedenti non funzionano più e il gestore precedente ormai è decaduto nella sua funzione per cui abbiamo cercato noi negli anni passati di mettere a gara la possibilità di distribuire l'acqua nella forma del fontanello, non abbiamo trovato nessun soggetto disponibile a farlo e poi grazie a questa delibera dell'AIT dell'autorità idrica toscana insieme a Publiacqua siamo arrivati ad oggi. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio sono oggi installati 122 fontanelli che nel periodo dal 2017 al 2023 hanno erogato 229 milioni di litri di acqua con un risparmio per l'ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non prodotte, trasportate e smaltite e per le tasche delle famiglie oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie. Il risparmio di plastica è un risparmio importante se si considera che 25 bottiglie da un litro e mezzo portano un consumo di quasi un chilo di petrolio, ecco, questo è il principale risparmio ambientale che c'è. Poi è un ottimo segnale, c'è un ritorno di riacqua, c'è un senso di ritorno dell'acqua come bene pubblico per la cittadinanza.